La leggenda racconta che le Schneeball, letteralmente palla di neve, dei fragranti dolci tipici tedeschi, siano state inventate per i festeggiamenti nuziali nel Medioevo a Rotenburg-Opt der Tauber, gioiello della storica regione della Franconia, Germania centrale. Alla pasticceria Panificio Caffè Walter Friedel, a conduzione familiare, si preparano con la ricetta originale dal 1882. Friedel spiega che nel periodo di Natale ne sforna fino a 3000 pezzi. L'impasto di ogni Schneeball viene appiattito e inciso con una rotella dentellata. È un utensile per le Schneeball. Questa è la Schneeball prima di essere cotta e io la metto giù nell'olio, spiega Friedel. E la Schneeball deve rompersi molto facilmente, vi mostro come. La Schneeball non è da mangiare come una mela. Simili per gusto alle nostre frappe di carnevale, l'impasto infatti a base di farina, uova, zucchero, burro e altri ingredienti, queste deliziose palline di pasta frolla vengono fritte in olio di semi a 180 gradi e si conservano fino a 6 settimane. I gusti possono variare. Le classiche prevedono guarnitura con zucchero a velo semplice o alla cannella. Poi ci sono versioni al cioccolato con ripieno di marzapane, amaretto o mandorle. La Schneeball non è per giocare a bowling, ironizza Friedel. La Schneeball per me è al posto delle patatine alla sera. Potete mangiare la Schneeball con il caffè, con l'acqua, con la Coca-Cola. La sera con il vino per me. La Schneeball per me è al posto delle patatine alla sera.